Sono state raggiunte già oggi una sessantina di famiglie dai volontari con le buste contenenti i buoni sociali per l'acquisto di beni di prima necessità per l'emergenza coronavirus. La prima ondata di aiuti riguarda quei nuclei familiari già in carico ai servizi sociali e conosciuti per un disagio sociale al quale poi si è aggiunto ora un disagio economico e per i quali il comune di sua sponte aveva già previsto in una riunione di giunta di intervenire implementando il fondo anticrisi di altri 50.000 euro in aggiunta ai 60.000 messi a bilancio a fine anno. Questi ora sono stati aggiunti ai 322.000 euro del governo e che serviranno per le restanti famiglie ovvero da domani quelle in carico anche ai servizi educativi che con un ISEA al di sotto dei 4.000 euro non pagano le rette scolastiche per mensa e trasporto pubblico e che quindi rappresentano la seconda mandata. Ma per non lasciare nessun indietro verranno anche incrociati i dati del comune con quelli della Caritas e le persone alle quali vengono consegnati i pacchi alimentari. Un intervento più che tempestivo quindi secondo l'amministrazione comunale che ha bruciato sul tempo altri comuni limitrofi e soprattutto a rispetto di quanto è apparso sulla stampa di oggi il primo cittadino nella videoconferenza stampa di questa mattina con i giornalisti ha ribadito essere a costo zero per gli esercizi commerciali. Ci siamo subito adoperati per cercare il metodo più snello e veloce e immediato e quindi abbiamo adottato uno strumento sperimentato già in passato con un gestore di questi buoni spesa e qui il risultato di cui rivendichiamo anche con orgoglio l'esito positivo è che tutta questa operazione non ha nessun costo e a tasso zero quindi tutte quelle attività commerciali, supermercati, punti vendita che aderiscono ovviamente non dovranno pagare nessuna percentuale sui buoni utilizzati. Nella busta che si vedranno recapitare le famiglie in questi giorni quindi oltre ai buoni spesa di tagli da 10, 20 e 50 euro troveranno un elenco di negozi convenzionati, il loro indirizzo e il recapito e anche un elenco dettagliato di generi acquistabili quindi nessuna sorpresa alle casse basta andare nei negozi convenzionati e acquistare secondo l'elenco fornito assieme ai buoni.